25. L'opera parte quinta. L'aereo, che invenzione geniale! Non avrà mai successo. Signore e signori, stiamo aspettando l'arrivo del grande tenore Bertolini. Verdi comincia a preoccuparsi. Ma che cosa sta facendo Bertolini? Ha telefonato poco fa. Arriverà in tempo. Mi sento male. Ancora una volta. Maestro, maestro, uno strano oggetto sta arrivando dal cielo. Ecco Milano, siamo arrivati. Quando ero giovane, la città era molto più piccola. Finalmente sei arrivato, Bertoldo! Sì, grazie a Leonardo. Leonardo? Anche lei è tenore? Faccio un po' di tutto. Come si sente dopo la sua avventura? Mi sento benissimo. Cosa è successo? Ero da Toscanini. Stavo per cantare e improvvisamente è andata via la luce. Poco dopo ero nel castello Bombardini. Che cosa voleva il conte Bombardini? La mia voce. Perché? I uomini famosi hanno sempre molti nemici. Un'altra domanda. Devo andare, ragazzi. Devo cantare fra poco. Leonardo, vieni con me? Grazie, amico, ma non posso. Finalmente ho trovato un sorriso indimenticabile. Il nostro obiettivo è per il suo processo Sidenterà. Il nostro obiettivo è per il suo mondo. Il nostro obiettivo è per il suo lavoro. Il nostro obiettivo è per il suo ruot. sta ancora sognando sarebbe un peccato svegliarlo no?